Oggi è una giornata molto importante per Palermo e per la Marcia Mondiale per la Pace e la Non-Violenza. La necessità di organizzare un forum per il disarmo nucleare e per la solidarietà e cooperazioni nel bacino del Mediterraneo. Questo era il significato di questi due giorni di dibattito, ma anche di festa. Pensiamo che quello che accade nel nostro mare non è quello che era l'elemento di incontro, dialogo tra le culture, viceversa è una minaccia continua e il fatto che popolazioni intere cerchino di arrivare qui nella speranza di lavorare, di vivere, invece trovano morte proprio nel nostro mare. Questa non è la solidarietà, questa non è l'Europa che vogliamo costruire. Vogliamo costruire un'Europa di pace, un'Europa di accoglienza, terra davvero in cui gli uomini possano vivere, davvero in pace. Da qui parte un messaggio, da Palermo, dalla capitale del Mediterraneo, parte un messaggio di pace a tutti i popoli, del bacino del Mediterraneo. Da qui parte anche la nostra marcia per la pace, circonderà tutto il mondo. Quando il 2 ottobre da Wellington un gruppo di persone inizierà a camminare con questo messaggio, gli esseri umani vogliono vivere in pace e possibilmente con la non violenza. C'è una base di tutto questo, un principio, una regola d'oro. Tratta gli altri come vorresti essere trattato. E questo è il semplice messaggio che vorremmo portare a tutto il mondo. E se solo una parte di questo verrà applicato, non soltanto dagli esseri umani nel loro comportamento quotidiano, ma anche dai governi, anche da ciò che determina il destino a livello mondiale, allora lì sì che potremmo dire che finalmente usciremo dalla preistoria umana per entrare in una nuova storia, una storia fatta da esseri umani che davvero vogliono vivere in un mondo di pace e di non violenza.